Salve a tutti amici, in questa parte vediamo come creare un testo e come ovviamente ridimensionarlo, spostarlo, eccetera. Per creare un testo, anche qui, dobbiamo utilizzare i filtri. Devo dire che in realtà non mi dispiace avere tutte le cose in un'unica sezione. Sì, poteva esserci magari la scritta T per cliccare qui e mettere il testo, però in realtà non è così fastidioso. L'unica cosa è che utilizzandolo come filtro da inserire su un qualcosa, non possiamo applicare degli effetti sopra il testo stesso. Perlomeno io non ho capito come fare. Comunque vediamo subito. Allora, facciamo più, aggiungiamo un nuovo filtro e andiamo su video di testo. Ovviamente possiamo anche usare il cerca per cercare i filtri, quindi scrivo testo ad esempio ed eccolo qua. Proviamo il testo classico. Eccolo qua. Allora, di base, vedete, è curiosa questa cosa. Lui ci dà un time code. Infatti se noi facciamo play, la traccia la disattivo, c'è questo time code che va. Lo possiamo cancellare, è un testo di prova, vedete? E possiamo scriverci testo di prova. Allora, questa è una cosa che mi piace tantissimo. Il testo si sta adattando per restare nell'immagine in modo automatico. Fantastico. Non era una cosa scontata. Poi qua abbiamo lo spessore. Vedete? Riempimento. Abbiamo il font che possiamo cambiare intanto come colore. Ecco qua. Il font è questo qui. In questo caso è il verdana. Possiamo mettere, ad esempio, l'enton. Ecco qua. Qua faccio spazio, anzi faccio invio. Come potete vedere posso inserire questo campo che è un codice, appunto il time code come era prima, oppure posso anche mettere questo, segno cancelletto, ma da solo non serve a niente, credo. Il fotogramma, quindi vedete, frame ci dà il fotogramma in tempo reale. Quindi calcolo dei fotogrammi in tempo reale. Quindi quello tra cancelletto è un codice che ci consente di mostrare alcune cose. Io non li conosco tutti. Quindi ho visto solamente questi data file. Probabilmente ce ne sono altri. Questo ci inserisce la data attuale. Bene. Quindi questo per inserire dei campi. Ecco, diciamo così. Poi qua abbiamo la posizione. Intanto il testo si può ridimensionare da qua. Come potete vedere. E qua i valori cambiano in automatico, altrimenti li cambiamo qua. La dimensione. Anche qua il keyframe per fare degli effetti nel tempo. Ovvero per fare un testo che cambia con l'avanzamento della clip. Qua c'è adattamento orizzontale, sinistra, centro, destra. Adatta verticalmente, alto, medio, basso. E questo, qui c'è il contorno, per quanto riguarda il testo tradizionale. Però qua nel profilo abbiamo già dei settaggi. Ad esempio, in alto a destra. Ecco qua. Come potete vedere però il profilo ci ha cambiato il font. Quindi prima magari utilizzate il profilo e poi cambiate i vari settaggi. Quello che mi interessa è questo. Allora, movimento lento in giù ad esempio. Facciamo play da qua. E come potete vedere il testo va giù in modo molto lento. Vado avanti veloce col cursore per farmi vedere. Cambiamo, ad esempio facciamo Scorrere dal basso, ad esempio Play E il testo appare dal basso. Come potete vedere. Il resto lo facciamo con il keyframe in modo manuale come vogliamo noi. Ad esempio, questo era troppo rapido. Ad esempio, noi possiamo abilitare la posizione qua fuori dallo schermo del testo. Abilitare il keyframe. E poi dopo fare il movimento. Arrivare, non lo so, qui. Mettere il testo al centro. E in questo modo abbiamo fatto un movimento del testo. Ora non ve lo sto a far rivedere ma ve l'ho fatto vedere già nei filtri luminosità, posizione. Insomma, dovreste aver capito come funziona il keyframe. In questo caso è questo. Da attivare. Quindi, allora, abbiamo visto questo. Adesso vediamo il testo 3D. Quindi rimuovo e faccio più. E andiamo a testo 3D. Ecco qua. Il testo 3D, come potete vedere, è molto ben fatto. Qua ci sono i valori di dimensione, profondità. Insomma, mi ha veramente stupito questo tipo di testo. Perché è veramente fatto bene. Non me lo immaginavo da un programma così semplice. Quindi abbiamo già un preset di base molto ben fatto. Qua cambiamo il font, grassetto. Qua ci sono i valori di default per farli tornare come erano prima. Abbiamo anche qua... Qua è il testo. Possiamo scrivere testo di prova, quello che volete. Però ci sono meno settaggi rispetto al testo normale. E non ci sono neanche i profili di movimento. Quindi è un po' particolare questo testo 3D HTML, chiamato così. Qui c'è il colore. Possiamo scegliere il colore. E qua c'è prelevo un colore dallo schermo. Noi con la pipetta possiamo andare... Anzi, non è una pipetta, è proprio un cursore. Possiamo andare a selezionare un qualsiasi colore, anche fuori dal programma stesso. E poi cliccare. Ok. E niente. Adesso vediamo l'overlay HTML. Meno. Ecco qua. L'overlay HTML è molto particolare perché ci consente, allora, intanto di utilizzare dei modelli. Questo qui, Creative Commons Music 1 e 2, ad esempio, è quando utilizziamo la musica e vogliamo dare dei credits nel video stesso. Ci basta cliccare qua. Vedete? Lui ci ha già preparato una schermata. Creative Commons. Questo video ha la canzone qua. Cambiate, non lo so. Prova. Qua c'è il link al sito, eccetera, eccetera. Queste cose si possono tutte cambiare. Infatti questa è una schermata dove possiamo anche fare vari cambiamenti, allineamenti, inserire addirittura ulteriori immagini. Quindi facciamo... Salvo modifiche, sì. Ed ecco fatto. Quindi adesso abbiamo modificato tutto quanto il video e ci abbiamo applicato questo overlay HTML. Quindi consiglio, ora qua lo rimuovo, di preparare una porzione del video. Ad esempio qua con la taglierina separo una porzione e l'effetto overlay lo applico qua sopra, in modo che non vada su tutto quanto il video. In questo caso adesso vediamone un altro. Cerca overlay. Abbiamo ad esempio blank HTML. e questo è un file bianco, dove possiamo fare le nostre cose. Quindi possiamo inserire del testo. Quindi questo potrebbe essere un altro sistema per utilizzare il testo. Il rassetto. Qua possiamo inserire il codice HTML. Quindi se voi sapete l'HTML, questo essendo un editor HTML può andare a comporre poi il risultato finale. Questo è l'editor what you see is what you get. Questa è l'abbreviazione, ovvero questa è esattamente quello che vedrete. Mentre questa è la sorgente. Quindi voi potete programmare in HTML qua dentro. Faccio chiudi, salva. E noi abbiamo fatto il testo prova. Eccolo qua. Ora lo cambio di nuovo. Sennò qua si può modificare. Vedete? Cambiamo di nuovo. Mettiamola ancora. E vediamo questa blue middle bar, che è una barra nel mezzo, però qua c'è un titolo. Quindi noi possiamo modificare il titolo. Qua ne avevo aggiunto un altro. Allora, torniamo indietro. Ecco, facciamo così. Titolo di prova. E poi eliminiamo questo. Sennò non c'è più il testo selezionato. Ecco qua. Chiudo. Salva. Ed ecco che abbiamo fatto non solo un testo, ma anche un rettangolo. L'unica cosa è che non si può spostare questo rettangolo qua. Come potete vedere non ci sono settaggi per lo spostamento. Quindi abbiamo visto come fare il testo, come utilizzare l'overlay HTML per fare un nuovo testo, come usare qualche modello già pronto. Nella prossima parte vedremo l'esportazione finale, mentre per il chroma key farò un video a parte dopo il corso completo. Grazie per avermi seguito. Un saluto a tutti. Grazie. Grazie.